Grazie a tutti. E' una esperienza di fraternità, direi, perché più si si conosce e più si si sente vicini e più sentiamo il desiderio di incontrarci ancora. E credo che momenti come questi, offerti in questo caso dai francescani, sono davvero una benedizione ai tempi che stiamo vivendo. Oggi bisogna moltiplicare queste esperienze virtuose proprio perché vogliamo essere anche per le nuove generazioni un buon esempio, una testimonianza positiva di quello che possiamo essere insieme. Quindi fratelli a servizio dell'umanità. Grazie. Grazie mille.